Jeans e magliette colorate, maxi schermo, musica a tutto volume, attori dilettanti in costume, per portare sul palco la storia di Davide, il pastore scelto dal signore per diventare re. E' la vivace scenografia che giovedì scorso ha fatto da sfondo alla serata conclusiva del corso per animatori di estate ragazzi 2009, con l'incontro degli animatori stessi con il cardinale. Più di mille giovani tra i 14 e i 18 anni hanno riempito la palestra del villaggio del Fanciullo in via Scipione dal Ferro. Il momento della riflessione presentato da Don Sebastiano Tori, incaricato diocesano per la pastorelle giovanile, settore ragazzi e adolescenti. Poi l'arrivo del cardinal Carlo Caffarra, che sale sul parco tra applausi dei giovani animatori. Il nesso tra la biblica vicenda di Davide e la realtà dei nostri giorni è chiaro nelle parole del cardinale. Tenete l'orecchio teso, ha detto ai giovani presenti, è in questi anni che il signore vi fa capire perché vi ha donato la vita. Un invito a cercare la propria vocazione nella realtà di ogni giorno, come è stato per Davide, chiamato dal signore a svolgere un compito che chiunque avrebbe ritenuto al di sopra delle proprie forze. Ma il signore sceglie i piccoli, ha proseguito l'arcivescovo. Fatelo capire ai bambini quanto siano importanti per il signore. Un fragoroso applauso chiude il suo breve intervento, per lasciare spazio a un altro momento ludico. Sfilano sul palco allestito per l'occasione nella palestra i personaggi della storia di Davide, impersonati dagli animatori. Si arriva al momento del saluto con il consueto dono al cardinale, i gadget dell'appuntamento estivo. Poi l'arcivescovo impartisce la benedizione ai suoi giovani, che lo salutano con grande calore. Anche quest'anno l'avventura è cominciata. Grazie.